Tutto We can start? You are ready? Ok Me la sono meritata eh? Sì Allora possiamo cominciare Buonasera, conferenza stampa dei campioni d'Europa Inizia la star of the match Leonardo Bonucci Vedo subito Rai collegata Diamo la precedenza Donatella Scarnati a seguire Francesco Repice Leonardo Complimenti, veramente Vi ricordo che staremo insieme anche domani La Nazionale ripartirà stanotte Per Fiumicino, si trasferirà al Parco dei Principi Domani vi daremo poi il programma di domani Grazie a tutti, buonanotte Grazie, buonanotte Grazie, thank you, bye